Il rapporto fra Dante e Guido Cavalcanti è uno dei più discussi e controversi della nostra intera tradizione letteraria e non ha torto perché dalla sua corretta interpretazione dipende l'interpretazione di alcuni fondamentali passaggi della poetica dantesca, dalle rime fino alla commedia. È un rapporto documentato in vari modi ma sicuramente i documenti più evidenti sono i sonetti che i due si scambiano, da quello più famoso Guido io vorrei che tu l'apo ed io fino all'altro estremo, ma l'altro estremo diciamo convenzionalmente perché in realtà non abbiamo alcuna idea di quando questo sonetto sia stato composto, quello di Cavalcanti a Dante, io venio il giornate infinite volte dove Guido si rammarica per la condotta vile dell'amico, rammarico in cui diversi studiosi hanno voluto riconoscere il segno di un rapporto ormai logoro se non del tutto compromesso. Tuttavia il libro dell'amicizia fra Dante e Guido è senz'altro la vita nuova. Dante nel raccontare i suoi sordi poetici narra di come fra coloro che risposero al primo sonetto che lui compose all'età di 18 anni, a ciascuna alma presa e gentilcore, ci fu Guido Cavalcanti. Quell'episodio Dante racconta fu l'inizio della loro amicizia e da quel punto in poi nella vita nuova Guido diventa il primo dei miei amici, il maggiore, il più importante degli amici. Tanto vero che Dante gli dedica poi la stessa vita nuova. Al tempo stesso però nel racconto del suo amore per Beatrice, nella messa in scena di fatto della sua storia di poeta, Dante matura una concezione dell'amore che è profondamente diversa da quella di Cavalcanti. Con la poetica della lode Dante scopre un amore assoluto, pago di sé, autosufficiente, che somiglia molto alla caritas cristiana e che è in grado di sopravvivere alla stessa morte di Beatrice. L'amore cavalcantiano era qualcosa di completamente diverso, era una passione irrazionale, angosciosa, che coinvolgeva l'anima sensitiva, poteva compromettere l'esercizio delle facoltà razionali e addirittura condurre a quella che noi oggi chiameremmo depressione e poi alla morte. Molti studiosi di fronte a questa apparente ambiguità che emerge dalla vita nuova hanno voluto riconoscere da parte di Dante una volontà polemica. In pratica Dante con la vita nuova vorrebbe prendere le distanze dalla presenza ormai ingombrante dell'amico di un tempo e affermare il primato della sua poesia rispetto a quella concorrente di Guido. Tuttavia, se però contestualizziamo la stesura della vita nuova all'interno della biografia intellettuale dei due, questa ambiguità si perde, nel senso o meglio si supera, nel senso che quando Dante compone la vita nuova intorno al 1293-1294, Cavalcanti probabilmente aveva concluso la sua esperienza di poeta d'amore forse per dedicarsi alla filosofia. Così infatti ci testimoniano alcune importanti figure del suo tempo come Giovanni Villani, Boccaccio, gli antichi commentatori di Dante, che sono tutti concordi nel dirci che Cavalcanti era un filosofo, nessuno fa riferimento se non minimamente alla sua attività di rimatore. E questo appunto, assieme a tutta una serie di elementi che emergono dalla sua stessa poesia, ci lascia credere che la ricerca poetica fu per Cavalcanti un'esperienza sostanzialmente giovanile, comunque conclusa ad un certo punto della sua vicenda intellettuale. Se le cose stanno così, è evidente che Dante nella vita nuova sta affermando un ideale di successione. Dante si vuole presentare come colui che ha appreso la lezione cavalcantiana, ne ha ereditato soprattutto la lezione linguistica e poi ha saputo trovare una propria strada, cioè ha saputo partire dal punto, come del resto Cavalcanti stesso era ben consapevole, ovvero dal punto dove la stessa esperienza cavalcantiana si era esaurita. Da lì Dante aveva saputo trovare una propria strada. Questo è quello che lui in sostanza mette in scena nella vita nuova e per questo questa sua ricerca, anche se aggiunge da prodi differenti, non è in nessun modo ambiguo o contraddittoria nei confronti dell'amicizia, della stima che lui al tempo stesso rivendica nei confronti di Guido, di cui sembra piuttosto cercare l'approvazione o la dedica. Questo ideale di successione è poi in sostanza lo stesso che Dante afferma in Purgatorio, nell'undicesimo del Purgatorio, quando parlando della gloria della lingua, ovvero dell'eccellenza della poesia volgare, lui dice che è passata dall'uno all'altro Guido, cioè da Guinizelli a Cavalcanti e poi già è nato e così via, ovvero a Dante stesso. È un ideale di successione cronologica, naturalmente perché non dobbiamo dimenticare che Cavalcanti era più anziano di Dante, probabilmente 10 se non 15 anni più grande, ed è una successione naturalmente anche di perfezionamento, per così dire, della lirica e dell'ideale amoroso. Questa lettura permette di intendere meglio anche il De vulgari eloquenzia, il trattato sulla lingua volgare in cui Dante da una parte celebra senza ombra di dubbio la poesia cavalcantiana, ditandola come esempio anche di maestria tecnica, e dall'altro però conferisce la palma di miglior poeta d'amore a Cino da pistola. In questa scelta diversi studiosi vedono la conferma di un sentimento di rivalza, di ostilità nei confronti del primo amico, sostituito di fatto con Cino, ma in realtà se tutto quello che abbiamo appena detto è vero, è una scelta ben comprensibile. Se Guido appunto aveva a un certo punto tralasciato la lirica d'amore per dedicarsi a qualcosa di oggettivamente più importante, cioè la filosofia, è chiaro che relegarlo al ruolo di miglior poeta d'amore sarebbe stata una sorta di dinnuzio, e di fatti nemmeno Dante voleva esserlo. Dante riserva, nel De vulgari riserva per sé, la palma di miglior poeta morale, che scrive a poesia eticamente impegnata. E questa lettura, infine, forse ci permette di comprendere meglio quello che è l'episodio più discusso del rapporto tra i due, che è quello che Dante afferma nel Decimo dell'Inferno, quando incontra tra gli eretici, cavalcante dei cavalcanti, parri di Guido, e questi gli domanda, ma se tu vai per questo cieco carcere, cioè se tu hai avuto il privilegio del viaggio oltremondano per altezza d'ingegno, ovvero per l'eccellenza del tuo intelletto, mio figlio dov'è? Perché non è con te? Perché non ti accompagna? E Dante risponde che lui non compie, non ha questo privilegio per meriti propri, o soltanto grazie al proprio intelletto, ma perché è guidato da Virgilio, che forse, aggiunge Guido, ebbe a disdegno. Ora, questo è un passo, abbiamo detto, molto discusso, molti ritengono che il disdegno non sia riferito in realtà a Virgilio, però così interpretavano, anche in questo caso in modo del tutto univoco, gli antichi commentatori che spiegavano che appunto il limite che qui Dante riconosce all'amico di un tempo riguarda la sua scelta nel non proseguire lungo il cammino della poesia, ovvero il fatto che egli non avesse riconosciuto che la poesia, in particolare la grande poesia epica, permetteva di accedere a verità superiori, permetteva di trascendere una conoscenza limitata della realtà alla quale era inevitabilmente invece condannata la filosofia che Guido aveva scelto. Grazie. Grazie.